Adesso a questo punto ammiriamo delle gran belle gambe che sono le gambe delle nostre mix per cui facciamo entrare la prima Allora, ecco la nostra Giazza Buona, grazie a tutti Buon segno, buon segno Buon segno Buon segno Buon segno Buon segno, buon segno Buon segno Buon segno Buon segno Buon segno Gialla è una bar girl E dedica tempo libero a due grandi passioni Il bar latinoamericano, signore Quindi direi che le si può anche chiedere una prova dopo E i cavalli